maschera viso per i pori dilatati abbiamo bisogno di un uovo di cui utilizzeremo soltanto l'albume è di mezzo limone procediamo separo l'albume dell'uovo ok ecco qui l'albume e il suco di mezzo limone mascoliamo bene il meglio possibile andiamo ad unire le proprietà astringenti del limone ai numerosi benefici dell'albume dell'uovo tra cui quello di minimizzare le rughe e ridurre le impurità quindi ecco qui ok ed ora con un pennello di questo tipo o qualsiasi tipo andiamo ad applicarlo sulle zone del viso dove abbiamo i pori dilatati a stile di maschera liquida ovviamente vi faccio vedere sulla mano ecco ovviamente lo applichiamo sul viso sulla fronte sul mento sulle zigomi naso intorno al naso dove c'è bisogno lasciamo in posa 10-15 minuti al massimo e in seguito andiamo a risciacquare con dell'acqua tiepida e asciughiamo bene il viso questo è tutto per una maschera fatta in casa con ingredienti naturali per i pori dilatati ciao ciao Ciao!